Stavano teamando Ma siamo seri raga In una pubblica teamare così Ma stiamo scherzando Ma siamo seri Dai raga teamare Cioè Teaming in una pubblica è ridicola sta roba Buonasera No 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 Questa è la barca Ancora qui con te per sostenere Ma come c***o è possibile Andiamo a ballare Andiamo a ballare Comunque ragazzi ha una faccia in c***o sta skinna Quando non balla Porca Allora che c***o ti faccio Ragazzi lo faccio Ora esce lo spazio in one tappa Guarda Questa è già la bananina Ah Non era Mi pensavo fosse Simix E tutto ciò dove sono i miei shield E tutto ciò perché siamo a 16 live nel primo cerchio In 2020 ci sono ancora i lobbies What a f***o Bad Un'altra 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 Cioè, ragazzi Ragazzi, guardate i materiali che mi ha dato Ragazzi, guardate i materiali che mi ha dato Vi prego, per favore Cioè, guardatelo Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma che s***a come c'è qua? Ma io la sparapende che il flotter Vabbè, siamo... Ah, gli ultimi due sono là No, era un bait, ha sparato a caso Era un bait Per farmi andare là Ma ragazzi, facciamo un barca classic Da mobile Ok, nice, nice, nice GG, GG, GG Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god Questo è storo, questo è storo, ragazzi Questo è storo Oh my god, oh my god Oh my god Anzi così Ah, ma uno è camperato lì sotto nel mattone, mi sa Ti piace, ragazzi, l'occhio dello struzzo? Va bene Ma inoltre ciò, scusatemi una cosa Dove sta la... il terzo? Dove è il terzo, raga? Questa è la vera domanda Ah Vabbè, questo game non può essere serio È cadere quello Cioè Può buildare per i safe Per rompidì quello Guardi Questa è la vera domanda Quale è la vera domanda ? Allora Oh 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 Mi faccio felare Vai una scream, ragazzi Oh, lupicino di mamma, di Marcelle Aha Ah, è rotto, che c***o Aha Crevi una benza Questi non si sparano, ragazzi Questi non si stanno sparando No, ragazzi, questi non si sparano Questi stanno teamando, ragazzi Modiglio 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 Ah shit, basta. Ah YouTube 6 BL2 Questa si chiamava Ah Magari c'è la 40 flopper Cioè ma siamo Cioè ragazzi ma siamo No vabbè ragazzi siamo seri Vedi vedi non gli sparava Non gli sparava vedi 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 non gli sparava Vedi non si sparavano Magari non sapeva editare Sparare No guarda Guarda valentami sopra Ma è c***o Se l'ho detto Stavano timmando Ma siamo seri raga In una pubblica timmare così ma stiamo scherzando Ma siamo seri Ma questa cosa è ridicola Ed è ridicola Visto visto Gli stava ballando Stava ballando Guarda Se l'ha messa a ballare Dai ma siamo seri Dai ragazzi in mare Cioè teaming in una pubblica è ridicola Sta roba Oh mio dio Oh mio dio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti